Ciao ragazzi, benvenuti in questo video, come vedete questo non è un video tutorial ma bensì un video per annunciarvi che ho raggiunto i 1000 iscritti al mio canale e devo dire che sono davvero felicissima di aver raggiunto questo traguardo in così poco tempo poi sto notando che molte stanno seguendo i miei tutorial e non potete immaginare che emozione vedere i vostri moduli realizzati da un mio tutorial, veramente non riesco neanche a esprimere quello che provo quando vedo le vostre creazioni comunque grazie davvero a tutte, allora ho deciso di organizzare un contest e spero sarete in tanti a partecipare allora in questo contest dovrete naturalmente mettere mi piace al video, dovete essere iscritti al mio canale e dovrete realizzare un modulo da un mio tutorial con il colore predominante nero nero perché? Perché la migliore creazione sarà scelta dal mio compagno il mio compagno è un metallaro per cui il nero è il colore che preferisce chiaramente come tutti i metallari quindi abbiamo deciso di insieme di organizzare questo contest con il tema del metal allora praticamente dovete realizzare un modulino da un mio tutorial con colore predominante nero naturalmente vi sto dicendo che il mio compagno è un metallaro per cui io eviterei i colori pastello per spezzare ma piuttosto un bianco, un grigio, comunque qualcosa che renda la creazione abbastanza rock se volete potete modificare anche il modulo originale con delle perline particolari questo è un aiuto che vi sto dando delle perline particolari tipo le spike che sono abbastanza rock oppure potete aggiungere una catenella cioè dovete rendere la creazione il più metal possibile per aumentare le probabilità di vincita del contest allora una volta realizzato il modulino dovrete inviarmelo al mio indirizzo email ve lo allora il mio indirizzo email che comunque vi metterò anche nell'info box è tizianafiorentini.moleco.gmail.com l'oggetto è contest 1000 iscritti io vi consiglio oltre a mandarmi la foto mandatemi anche un video per vedere meglio la creazione questo aiuterà naturalmente il mio compagno a scegliere in maniera migliore ecco potete mettere qualsiasi logo sulla foto anche perché non sarò io a scegliere ma sarà lui per cui è indifferente se volete mettere il logo non lo volete mettere è una vostra scelta avete tempo di partecipare guardiamo un po' le date fino al allora avete tempo di partecipare a questo contest fino al 6 di maggio quindi entro il 6 maggio dovrete mandarmi la foto su questo indirizzo email la foto, il video, quello che volete e il giorno dopo, due giorni dopo comunque il tempo di decidere quale sarà la creazione migliore che magari potrà essere anche più di una non so la vincitrice praticamente o il vincitore visto che ci sono anche i maschietti del contest avrà in regalo lo schema dei miei orecchini Van Gogh li faccio vedere meglio ecco qua avrà lo schema in pdf immediatamente sulla sua mail in più avrà le invio invierò al vincitore o la vincitrice una creazione che porterà il suo nome quindi esclusiva che porterà il suo nome quindi in base alla persona che vincerà in più avrà del materiale creativo allora spero di essere stata chiara di aver spiegato tutto per bene perché io sono quella che si dimentica sempre qualcosa in ogni caso potete mandarmi messaggi per avere delucidazioni allora spero sarete in tanti a partecipare al mio contest e intanto vi saluto un bacione a tutti ciao ciao ciao